Ciao a tutti, lei mi cercherà? Ci sarà un ritorno? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora Bene Concentrati su questa lei, della quale vuoi sapere se ci sarà un ritorno Poi anche stoppare il video, poi farlo ripartire, dopodiché sceglio la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché ho scelto la carta 1? Sì, ci sarà un ritorno e un riavvicinamento importante, che ho scelto la carta 2. Grande cambiamento, quindi possibilità che prenda altre strade, che ho scelto la carta 3. Periodo di solitudine, quindi no, che non ci sarà il ritorno, che ho scelto la carta 4. Non è detto che ci sarà un ritorno, però modificando qualche cosa è possibile che giustizia venga fatta. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al canale. Iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!